E il problema è che si crea una cultura che si imbeve anche di alcune panzane, di alcune fake news. Peggio dei terrapiattisti, di quelli che credono che la terra sia piatta. Peggio di quelli che credono che l'uomo non sia mai andato sulla luna. Peggio c'è il piano Calergi. Di che cosa parliamo? Vediamo. Ambasciata USA in azione viene presentata la nuova applicazione Migradvisor sviluppata dalla Caritas Italiana con il contributo dell'Ambasciata USA per aiutare i migranti a raggiungere i servizi più vicini ed avere informazioni utili delle situazioni di rischio di emergenza. E l'ultimo post condiviso nella pagina Facebook Calergi, la prossima scomparsa degli europei, seguito da 2.911 persone. Un post da sette reazioni, un commento e sei condivisioni. Poca roba lo stupore per un'iniziativa concreta di aiuto ai migranti. Ma il post precedente a spiegare meglio in che bolla si trova questa pagina e Matteo Simonetti nelle sue note biografiche su Facebook, giornalista, scrittore, pianista, professore di storia e filosofia in un istituto di Civitanova a Marche, guarda caso in provincia di Macerata. A condividere queste fotografie frutto della sua ricerca storica. Ostaggi già 50 anni prima? Un post condiviso con questi commenti spiega meglio. Sono in un archivio in Repubblica cieca, documenti del nonno di Calergi, pare già indebitato coi Rothschild. Un cognome a caso. Quando leggi Rothschild le orecchie si aguzzano. Vampiri da sempre. Migranti, sante alleanze, banchieri ebrei. Qui inizia e qui finisce il mondo del cosiddetto piano Calergi, che da qualche anno riaffiora dai piani più profondi dei siti web cospirazionisti, neonazisti, anti-europeisti con tendenze di estrema destra per mettere in guardia l'Europa da un tentativo occulto di un genocidio della sua popolazione autoctona che verrebbe mischiata e infine sostituita dall'ingresso nei vari paesi di uomini e donne africani asiatici per snaturare e cancellare l'identità dei cittadini europei e creare una popolazione meticcia senza radici comuni e quindi facilmente manipolabile. Un complotto transnazionale che prende il nome dal nobile austriaco Richard Kudenhove Calergi, nato nel 1894 a Tokyo, studia Vienna. Profondamente colpito dalla strage dei suoi coetani nella prima guerra mondiale, fondò nel 1923 l'Unione Pan-Europea, la prima organizzazione per il progetto di un'Europa unita. Nel primo libro del 1923 Calergi scrive l'Europa continentale dal Portogallo alla Polonia si unirà sotto forma di uno Stato, visione che portò nello stesso anno al primo congresso pan-europeo. Era un'Europa distrutta da riscrivere quella degli anni 20 e a Vienna il conte vedeva sorgere il movimento nazista, tanto che nel 1938 riparò a New York lasciando altri scritti come Practisher Idealismus dove la visione di un'Europa unita si accompagnava a quella di una mescolanza raziale e transnazionale per unificare l'Europa in una confederazione che si sarebbe affiancata con la sua popolazione interraziale all'interno di un pacifico sistema politico mondiale unificato. Più vago il sistema di gestione e rappresentanza, un governo che avrebbe garantito una sorta di esperanto della convivenza pacifica. Calergi morì nel 1972 facendo in tempo a vedere i primi passi di un dialogo e di un'unione commerciale degli stati europei. La sua visione venne riconosciuta tra quelle germinali per un'Unione Europea, tanto da essere il primo personaggio a ricevere nel 1950 il premio internazionale Carlo Magno di Acquisgrana assegnato ogni anno le personalità che si sono spese per l'Unione e integrazione in Europa. Quello che Calergi non fece in tempo a vedere è la rilettura che dei suoi scritti ne fece Gerd Honzik, attivista dell'estrema destra neonazista austriaca e negazionista dell'Olocausto. Nel 2005 il libro che smaschererebbe l'europeismo di Calergi, descrivendolo invece come un complotto dell'elite. Altro che pacifica mescolanza di popoli il piano è quello del lento genocidio dei bianchi europei, la loro sostituzione con popoli asiatici e africani, la creazione di un greggio emeticcio facilmente manipolabile da un governo centrale d'elite, emanazione dei poteri forti occulti, massoni e finanzieri ebrei che manovrerebbero governi e società. Per i suoi scritti negazionisti, Honzik nel 2009 è stato condannato in Austria a quattro anni di prigione, ma la sua teoria sull'esistenza del cosiddetto piano Calergi di anno in anno, di sito web in sito web, di social in social, nel percolato del complottismo, non è mai morta. per riaffacciarsi negli ultimi tre anni sulla spinta dell'emergenza dei flussi migratori. Come avevamo visto nei commenti su Facebook, alle sue ricerche, dove si azzarda addirittura il ricatto dei Rothschild al nonno di Calergi, lo storico marchigiano Matteo Simonetti è molto attivo nella ricerca per confermare il complotto. La verità sul piano Calergi. Un personaggio che si parla molto poco, giustamente. Si parla molto poco, la gente non lo conosce, però coloro che comandano, soprattutto per quello che riguarda i vertici dell'Unione Europea, lo conoscono molto bene, in quanto c'è anche un premio Calergi molto importante che viene assegnato, è stato ritirato tra l'altro da Angela Merkel. Dai libri si va al prime time televisivo nel programma La Gabbia, che era in onda proprio sulla nostra rete. Se ne parla una prima volta nel settembre 2015, l'anno della ridistribuzione decisa dagli Stati europei, l'estate delle marce dei migranti sulla rotta balcanica. Lui aveva in mente un'idea di Stato, enorme Stato, nazione che venerasse personalità come Mazzini, Napoleone, Kant, Nietzsche, ma soprattutto che sostituisse la democrazia con un'aristocrazia illuminata. Direi obiettivo raggiunto. I Calergi, pensate, furono finanziati inizialmente questo piano da un banchiere, non poteva essere diversamente. Lo racconta così Claudio Messora, ai tempi aveva già lasciato la consulenza alla comunicazione del Movimento 5 Stelle. Sul suo blog perfeziona la sua convinzione. Si può dire che il piano Calergi ha avuto successo praticamente in tutto, o perlomeno i suoi discepoli stanno procedendo a grande velocità verso la sua finalizzazione. Draghi, che chiede l'unione bancaria e nuove cessioni di sovranità, la Boldrini, che chiede l'accelerazione degli Stati Uniti d'Europa, Mattarella, che discute di cessione della sovranità fiscale. Ma cosa ne è delle teorie del conte sulla questione razziale? Nel 1925, Calergi, che è stato il fondatore dell'Unione Paneuropea... Anche Cristiano Magdi Allam è nella squadra di chi crede al complotto di chi vede in ogni barcone la prova dell'invasione. Nel bombardamento della Libia e la morte di Gheddafi, il pretesto per aprire agli africani il portone verso i porti d'imbarco per l'Europa. Non si salva nessuno, ogni vincitore del premio Carlo Magno, dalla Merkel, che accoglie un milione di profughi, a Papa Francesco, che come primo viaggio va a Lampedusa e poi parla della Madonna come madre meticcia, tutti attori del piano sotto mentite spoglie. In Italia gli strali cadono su Laura Boldrini e nella primavera del 2016 alla gabbia il cosiddetto piano Calergi torna protagonista. Si chiama Grande Sostituzione. È una teoria molto diffusa fra le elite europee. Il primo a metterla nero su bianco è stato il politico austriaco Richard Nicolaus Calergi in un libro del 1923 intitolato Pan Europa. Un video che Carla Ruoco del Movimento 5 Stelle manda frettolosamente in condivisione in rete, così come viene condiviso da Matteo Salvini. Né Salvini, né Giorgia Meloni si sono mai riferiti direttamente al cosiddetto piano Calergi, ma le frasi e le prese di posizioni del segretario del Carroccio contro le politiche dell'accoglienza in Italia e in Europa sono sempre state viste dagli oppositori come un copia e incolla della teoria del complotto. Termini come invasione, sostituzione, usati in comizie ed interviste avrebbero le loro radici lì, in quel progetto, che anche nei paesi anglosassoni e i suoi seguaci, che esultano per i toni anteuropeisti del leader di UKIP Farage nel suo discorso al Parlamento europeo. Un calcio al basso ventre a quelli del piano Calergi. Il 10 maggio Emmanuel Macron riceverà il premio Carlo Magno 2018. Il web è avvisato del cosiddetto piano Calergi. Ne sentiremo ancora parlare. E ora sapete davvero tutto. Però qui la sinistra resta superiore perché è una battuta, avendo detto tanti limiti, questi tifosi della teoria cospirativa non sanno che la prima grande sostituzione era l'attuata all'impero romano. i generali che hanno reso grande Roma erano africani. Civis Romano Sum era la formula dell'accoglienza tipo in cui chiunque a prescindere dalla sua nazionalità potrebbe entrare. Siamo tutti figli di una donna africana che 200 milioni di anni fa ha dato origine alla specie del sapio. Una bionda africana. Una biondissima africana. Che gli facevano più giorni. Gli ultimi. Senti, la definizione perfetta della tua giornalista è percolato. Bellissimo. Percolato con tutti. C'è altro da aggiungere? No, è consolante per le persone di scarso intelletto e scarsa voglia di comprensione della realtà affidarsi a un complotto. Senti, la definizione perfetta della tua giornalista percolato. Bellissimo. Percolato con tutti. Percolato con tutti. Percolato con tutti. C'è altro da aggiungere? No, è consolante per le persone di scarso intelletto scarsa voglia di comprensione della realtà affidarsi a un complotto. Il complotto vero potrebbe essere quello della banda del bitcoin che vuol sostituire l'euro. Il complotto è una cosa ridicola. di 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 di